eccoci pronti via è un bel po di tempo che cerco di colpire quel bersaglio ma non ci riesco quando ho difficoltà ad imparare faccio tre cose prima mi dico ce la puoi fare poi penso positivo e faccio del mio meglio è un atteggiamento che ho imparato dal mio amico reptile abbiamo inseguito il criminale stegron in quattro mostre o erano cinque ho perso il conto e lui ha distrutto la mostra dei dinosauri non va bene finalmente ho trovato i gioielli eccolo lì posso vederli ma voi eroi non vi arrendete mai mi sembra ovvio che la risposta è no stegron ha spezzato le mie ragnatelli come se niente fosse non scoraggiarti spidey andiamo possiamo prenderlo non fanno più le piramidi come una volta avremo un migliaio di mattoni sopra che giornata pessima guarda che non ci ha ancora messi al tappeto noi abbiamo affrontato situazioni ben più difficili dobbiamo essere positivi e cercare di dare il massimo più di così non riesco a sollevarlo ma ho creato uno spazio per uscire non so come faremo affermare stegron troveremo una soluzione proprio come quando eravamo sotto quelle macerie forse ci sono tu hai scoperto un modo per uscire da là e io ho elaborato un sistema per battere stegron così si fa all'opera ehi stegron scendi da questo treno non hai il biglietto quindi la corsa è finita spider-man si e non scordarti il tuo vecchio amico reptile io sono grossi e più fanno rumore quando casano giù quel giorno ho imparato una grande lezione da reptile mi sono detto ce la posso fare ho pensato positivo e adesso farò del mio meglio ce l'ho fatta ciao